Tra le infinite ragioni che fanno dell'urbe un centro di incessante attrazione turistica, un'ancora se ne è aggiunta quest'anno con l'apertura della seconda quadriennale d'arte. Chi giunge nella capitale dopo aver visitato gli incomparabili monumenti della Roma dei Cesari, della città dei Pachi, dell'urbe musoliniana, visitando questa importantissima rassegna dell'arte nazionale contemporanea, dove è stato fatto posto a tutte le tendenze, a tutte le scuole, a tutte le forme d'espressione, dalle più conservatrici alle più audaci, avrà una chiara idea della produzione e della possibilità dei nostri artisti, non in memori delle grandi tradizioni dei nostri sommi pittori e scultori, che furono maestri del mondo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!